Musica Ben ritrovati da Alessio Grosso, dunque un inverno dinamico con tante perturbazioni, tante depressioni che si inseguono sul nostro paese, non c'è tregua, manca il freddo vero ma non la neve che è caduta in molte zone e anche abbondante, soprattutto a partire dalle quote collinari. Cosa accadrà in questo weekend? Tornerà un po' di pace atmosferica e quello che scopriremo in questa puntata di Meteo Live Weekend. Dunque l'apertura la dedichiamo oggi a questa splendida inquadratura della Grigna vista da Barzio, stiamo parlando della Valsassina ovviamente, e questo è un segnale che il miglioramento del tempo potrebbe insistere anche durante gran parte del fine settimana, quindi concedendo agli sciatori un'ottima possibilità per sciare sulle nevicate recenti, quindi sulla neve fresca appena caduta. Una situazione però che non è così tranquilla in tutta Italia, vedete qui siamo a Napoli dove ci sono state mareggiate, anche forti temporali con allagamenti e poi non dimentichiamo le nevicate abbondanti che si sono verificate sull'Appennino Ligure, in particolare nel Savonese, addirittura sono state chiuse le scuole. Questo perché è una depressione, ha insistito sul nostro paese tra il nord e il centro nelle ultime 24 ore e si sta spostando verso sud e lì rimarrà in azione sino a tutto venerdì. Infatti l'analisi sinottica ci mostra proprio quella low, quella a bassa pressione, sulle nostre regioni meridionali in spostamento sullo Ionio, questa carta è prevista per la giornata di venerdì, altre perturbazioni avanzano dall'Atlantico, saranno però frenate da quell'anticiclone presente a ridosso della Scandinavia. Proprio quell'anticiclone ritarderà o devierà in parte queste perturbazioni regalando al nord tempo buono durante il weekend ma ancora con alcune insidie sulle regioni centro-meridionali. L'analisi successiva infatti mostra la domenica, vedete si è tutto liberato ma giungono altre perturbazioni da ovest, questa volta l'alta pressione non ci proteggerà però la perturbazione che arriva è una perturbazione accompagnata da correnti da ovest e quindi non porterà un vero peggioramento sul settentrione, soltanto delle spruzzate di neve su ovest alpi e poi si spezzerà andando ancora una volta a formare una depressione al centro-sud che insisterà anche per l'inizio della prossima settimana. Quindi ancora maltempo in arrivo ma soprattutto su delle regioni centro-meridionali. Per il nord invece buone nuove. Buone nuove per tutti a partire dalla fine del mese, quindi da mercoledì è probabile che l'anticiclone si spinga con questa lingua calda, la vedete fin sul nostro paese, con quel simbolo rosso abbiamo evidenziato l'Italia, con Roma in particolare, aria mite l'abbiamo evidenziato, quindi sensibile aumento della temperatura a partire dalla prossima settimana, dalla metà della prossima settimana, con un intervallo di tempo buono che si spingerà sino all'inizio di febbraio e temperature che soprattutto in quota risulteranno sensibilmente superiori alle medie del periodo. Una situazione che andrà avanti sino al 5 di febbraio, dopodiché attenzione, l'abbiamo segnato giovedì 7 febbraio, da lì in poi fino al San Valentino sarà possibile il ritorno dell'inverno, l'alta pressione se ne va, questa lingua calda, questo noi lo chiamiamo il gobbo di Algeri in realtà, l'anticiclone delle Azzorre, si spinge ad ovest e favorisce invece la discesa di correnti fredde che andranno nuovamente a provocare depressioni e maltempo sul nostro paese. Una situazione quindi di grande dinamicità con questo intervallo, l'abbiamo detto, di aria veramente tiepida e mite a metà della prossima settimana. Ebbene, ricordiamo che l'inverno può riservare non soltanto in febbraio ma anche in piena primavera, anche nel mese di aprile, delle bianche sorprese, dei colpi di coda. Il più clamoroso dei colpi di coda degli ultimi anni è stato sicuramente quello del 17 aprile 1991, dove partendo dalla situazione precedente, cioè da una mattinata di sole tipicamente primaverile con temperature miti, di colpo temporali su Milano e sulla Lombardia e calo progressivo netto delle temperature fino ad avere neve nel pomeriggio del 17 aprile. Con grande sorpresa di tutta la popolazione, nevicò non solo a Milano ma anche a Torino e anche ad Udine. Fu la nevicata più clamorosa che si ricorda, ormai da più di vent'anni non è più riaccaduto che nevicasse in un modo così coppioso a metà di aprile, il 17 aprile 1991. Quindi attenzione, anche la primavera può riservare sorprese. Ebbene, che weekend sarà? Abbiamo già dato qualche linea generale di previsione, entriamo nei dettagli. Per il venerdì il nord è al sole, ma attenzione ai banchi di nebbia, le gelate notturne, perché comunque è presente dell'aria fredda e umida. Procedendo verso il sud, naturalmente ritroveremo ancora delle instabilità sul medio adriatico e sul meridione con delle piogge e anche qualche temporale, nevicate in appennino intorno agli 800 metri e venti sostenuti. Per il sabato invece, per il nord cambia poco o nulla, nel senso che resiste il sole. Il sole lo ritroveremo anche sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, mentre troveremo una diffusa nuvolosità ancora sul medio adriatico e sul meridione e anche qualche spruzzata di neve in appennino intorno alle quote collinari su Marchi Abruzzo, intorno ai 700-800 metri sull'appennino meridionale. Temperature in diminuzione, sabato farà più freddo, in particolare al nord, anche in Lombardia, con gelate notturne che in montagna potranno essere anche significative, specialmente nelle conche e nei fondovalle alpini, lì farà veramente freddo. Nel pomeriggio comunque si starà un po' meglio, vado intorno ai 5-6 gradi, attenzione comunque alla possibilità di qualche banco di nebbia, soprattutto sulla bassa padana nel Pavese. Per la giornata di domenica, vi dicevamo, c'è quella perturbazione che cerca di arrivare da ovest, porta solo un po' di nuvolosità alta, quindi velature, in particolare al nord-ovest, il tempo migliora al centro-sud, un po' di velature arrivano sulla Sardegna nel corso della giornata, ma si può dire che in sostanza la domenica trascorrerà buona, un po' fredda, ancora con gelate notturne al nord e al centro e anche forse nelle zone interne del meridione. Sulla Lombardia si parte, queste non sono le immagini del mattino, sono quelle del pomeriggio, perché al mattino avremo tanto sole. Nel pomeriggio avremo questa nuvolaglia che sarà alta e sottile inizialmente, poi un po' più spessa e in serata il cielo sarà nuvoloso, soprattutto sulle province occidentali. Resisterà ancora un po' di sole, un po' di sereno, fino al tardo pomeriggio, tra Cremonese e Mantovano. Anche qui ancora gelate notturne e giornata comunque un po' freddina, un po' di freddo umido. Finiamo con il lunedì, per guardare giusto una linea di tendenza. Quella perturbazione interessa solo l'estremo nord-ovest, quindi qualche nevicata sulle Alpi occidentali e anche forse sul Piemonte, sino in pianura sul Torinese e sul Cuneese, e anche sull'Alpenino Ligure, poi scivolerà verso la Sardegna dove vedete piogge, fino ad arrivare poi sul medio-basso Tirreno, provocando nuova depressione, nuovo maltempo al centro e al sud. Ma per saperne di più andiamo a vedere cosa ci dice la sfera di cristallo. Quindi settimana che comincerà con maltempo al centro-sud, un po' di nuvole al nord, come detto le precipitazioni solo ad ovest, poi migliora. Da martedì ha ancora maltempo concentrato al centro-sud, al nord sole, tempo soleggiato che poi si estenderà anche al centro, come vedete tende a migliorare un po' anche al sud, ma lì resteranno un po' le correnti da nord-est a mantenere basse e instabile anche il tempo, basse le temperature e instabile il tempo. Da ricordare, ve l'ho detto prima, come tra martedì e giovedì per il nord ci possono essere in particolare giornate molto miti, in particolare sulla costa Ligure e sul settore alpino. Mentre nella seconda parte della settimana sarà possibile un certo cedimento dell'alta pressione e per il primo weekend di febbraio avremo il ritorno probabilmente della pioggia in pianura al nord e poi al centro e anche di qualche nevicata in montagna. Il tutto prelude poi a quel guasto più grosso che avremo dal 7 in poi. Vediamo anche il quadro delle temperature, si cala il lunedì, ma ecco l'aumento, l'abbiamo detto, tra martedì e mercoledì sensibile al centro e al nord, meno evidente al sud, dove si manifesterà poi sul finire della settimana, nuovo calo in vista per il settentrione dal weekend. Insomma è davvero un inverno molto dinamico che senza essere particolarmente freddo sa comunque stupire. Bene, grazie per averci seguito, un buon weekend a tutti da Alessio Grosso. Grazie a tutti.